Ciao creatura, io sono Ecate Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai ASMA. Questo video è la seconda volta che provo a rifarlo perché la prima mi sembrava venuto anche bellissimo ma il microfono ha deciso di non registrare niente, ha dato un errore e quindi ho il video però non l'audio. Vabbè, io non avevo voglia di ridobbiarlo di nuovo, cioè vabbè perché era un doppiaggio su un doppiaggio, non lo lascivamo stare. L'avevo spiegato bene, quindi adesso rispiegare tutto, non importa. Sono stata ammalata in questo periodo e infatti ho mal di gula e questo è anche il motivo per il quale mi vedi con questa faccia sfatta e che probabilmente ogni tanto vedrei un osso rosso perché mi soffio il naso e vedrei dei tagli perché devo tossire ma per il resto tutto ok. Allora, ti spiego il perché del titolo di questo video e dell'idea del video. Sfida tra outfit, tu dovrai scegliere, ho creato due outfit con anche delle varianti, hai molte cose da scegliere in questo video e l'idea che mi sono fatta è che tu guardando questo video puoi fare diversi pensieri e votare pensando a queste cose. Allora, puoi pensare quale outfit sto meglio a te, oppure quale degli outfit indosserei io se fossi, se potessi indossare uno di questi outfit, ecco. Quali outfit mi piacerebbe indossare in quanto creatura, ecco, a te stessa, non dal mio punto di vista, con il mio fisico, il mio corpo, col tuo corpo, ecco. L'impostazione appunto che ho deciso di dare a questo video, a questa tipologia di video è appunto che ti presento due outfit che uno può essere indicato per la società più femminile. femminile, tazzeccole, e l'altro un po' più maschile che è solo, magari, sono due stili totalmente diversi, lo capisco, lo capisco, però, cioè, io quando mi sveglio, un giorno mi sveglio che mi sento femminile, tra virgolette, un altro giorno mi sveglio che non c'ho voglia e voglio essere pantalone da biscotto e stare comoda, altre volte voglio essere elegante, però, con uno stile, cioè, dipende da come ci svegliamo, se sei come me, creatura, penso che mi puoi capire, e quindi ho cercato appunto di fare, di ricreare diversi outfit, proprio totalmente diversi, proprio perché il regno di Kozai è abitato da persone che un giorno, se vogliono essere più femminili, possono esserlo, se il giorno dopo vogliono essere completamente diverse, possono esserlo, perché, insomma, è giusto così, e nessuno può venirci a dire, ma non è da te, ma tu che ne sai, che ne sai cos'è da me, chi è, chi è, no, tra un po' non mi conoscono, almeno io, e vuoi saperlo tu? Ecco, e poi, in ogni video di questo tipo, mi piacerebbe fare il quesito della settimana, che cos'è il quesito della settimana? È, ti propongo un capo dal mio armadio, che è stato acquistato sempre al mercato, perché io compro tutto lì, praticamente, e magari ha un difetto, ha qualcosa che mi fa pensare, sono indecisa se tenerlo, buttarlo, o se è ancora in buone condizioni, regalarlo, venderlo, oppure modificarlo, quindi ci sarà ogni volta, se queste, perché ho già registrato, ho già preparato due video di queste qua, che riusciranno a fare due video a ogni mese, e quindi poi, se il mese di novembre questi due video, e questa idea di video, questo format, ti piace, vorrei proporlo anche a dicembre, e negli altri mesi, e quindi ne uscirebbero altri due a dicembre, ovviamente, magari un po' tema natalizio, e un po' tema invernale, ecco, quindi di outfit autonale e natalizi, magari una sfida, una settimana più invernale, e la settimana quella vicino verso Natale, più natalizia, ecco, così avevo pensato, poi dipende tutto da quanti like metterete su questo video, e lì capirò, è solo per capire se ti piacciono, magari anche dei commenti, ecco, però io di solito, perché tante volte si guardano i video ASMR, ci si addormentano, non si fa neanche in tempo, non si ha neanche voglia di commentare, e anche se spero che commenterai, perché è una sfida tra outfit, e tu devi scegliere, cioè, per forza, ma soprattutto spero che commenterai il quesito della settimana, perché mi devi dare il tuo consiglio, ecco, a riguardo, sarai tu a scegliere se questo capo verrà tenuto, buttato, tra virgolette, oppure anche venduto, regalato, oppure modificato, è molto importante la tua scelta, Il primo outfit che vado a mostrarti è molto versatile, perché ti proporrò una versione più kawaii e una versione un po' più rock, perché noi siamo persone versatili e avendo una grande personalità possiamo proporci agli altri, oppure, in base anche a come ci gira, essere più kawaii o essere un po' più cretosi, ecco. Ok, come primo outfit propongo questo un po' più femminile, perché è un abito, questo abito è bellissimo, non mi ricordo se l'ho pagato 2 o 3 euro, mi pare 2 euro, e è super bello, perché sembra ai miei occhi una sorta di camicia, mi sembra una camicia, ha questo colore verde oliva, verde bottiglia, e di questa parte mi piace con questi bottoni, il colletto fatto così, è bellissimo, ha il colletto tipo alla coreana, eccoli, ho il problema che mi si apre dove ho le boobs, e non so come fare, comunque, penso mi stia molto bene, è anche molto confio e comodo, poi ho messo queste calze qui, qua tagliamo, volevo farti vedere le scarpe, ma tirando sulla gamba si vedeva tutto, tutte le mie cose intime, e quindi niente, adesso cerco di fare una ripresa un po' più indietro per farti vedere, ecco, complessivamente ho queste scarpe, che non mi hai mai visto, che sono zebrate, io le addovo, aspetta che facciamo la parte più cute, per la versione cute, ti propongo, ti indosso questo cappellino, che ho comprato, insomma è un mercato a 2 euro, guarda come sono cute, wow, che pose cute, perché tengo le mani così, perché, per cosa sto facendo, non si sa, comunque, vabbè, mi sento molto cute, anche se, non so se l'abbinamento grigio e verde ci stia, guardami quanto sono cute, non sembrano neanche io, e invece sono proprio io, ecco, allora adesso aggiungiamo, di cosa sto platterando, non lo so, però volevo aggiungere un altro tocco estetico, solo che, intanto, vediamo da vicino questo cappellino quanto è cute, con il nasino e i baffi, e poi c'è anche le orecchie, guarda com'è carino, bello, trovo molto smr, i movimenti così delle mani sugli oggetti, molto triggerosi, Allora, io direi che ti propongo anche, proprio, perché, insomma, è autunno, quindi c'è freddo, andiamo ad indossare anche questo cappotto di lana, che ho pagato 5 euro al mercato, anche se, non lo so, non sono convinta, sai perché, cappello grigio, vestito verde e cappotto marrone, non lo so, non sono così convinta, tiriamo giù questo vestito, con quell'elastichino, e allora a me sta bene, perché mi calza perfettamente, però non so l'appinamento di colori, se ci sono troppi colori, o... lì che ogni tanto mi si intravesano le boobs, se mi faccio un movimento sbagliato, bello però, beh, tenendolo chiuso il vestito sparisce, sembra che ho una camicia sotto, i capelli lunghissimi, mi disturbano, tiriamo via il cappello, forse c'erano troppi colori, vediamo così, non male, devo dire, forse è meglio senza cappello, cosa ne pensi? Così è anche molto estetica, è morbidissimo di lana, sembra una copertina calda, la lo adoro, guarda qui, sì, forse è meglio così, oppure, adesso ti mostro un po' più grintoso, andiamo con un semplice accessorio che cambia tutta la situazione, ovvero, questo, che si abbina giusto alle scarpe che ho mostrato meglio prima, quelli con zebrate, aspetta, allora, questa è una specie di cintura, un accessorio, non serve a niente, su Instagram qualcuno mi aveva chiesto ma cosa serve a te, a niente, è per bellezza, come un paio di orecchini, è fatta così, vedi, e va indossata come uno zainetto, adesso se hai capelli lunghi, legateli perché io ogni volta mi incastro con i capelli, e poi smadonna, ma vabbè, dettagli, vedi, fatta così, si infila un braccio lì, proprio come uno zainetto, e poi si infila così, ecco, si tirano fuori i capelli perché si incastrano, si sistemano un attimo il vestito e poi va semplicemente, vedi, chiuso, semplicemente chiuso come una cintura, ed ha, con un semplice, questo logo, è stato su Cina, si trova a vari prezzi, io l'avevo pagato poco perché avevo usato anche i punti e quindi mi era stato scontato, l'avevo pagato sui 5 euro, penso che vengo sugli 8 o 7 euro, dipende anche dal periodo, magari adesso non va più di moda e costano anche meno, comunque, da quell'effetto capisci che è diverso, un tocco così a me piace, a me piace, ovviamente in base a quello stile che vuoi indossare in quel momento, ecco, però rende qualsiasi vestito, camicia un po' più così, un po' più aggressive, non so, però bello, eh, perché puscia anche un po' il seno in su, capisci, no, in realtà è sotto, però ha questo effetto di lineamenti del corpo un po' marcati, non so come spiegarlo, bello, mi piace, è tutta un'altra cosa comunque messo così, magari non è proprio d'ufficio, non lo so, dipende l'ufficio o quale lavori, però ecco, questo è l'outfit completo, un po' più crentoso, con queste scarpe secondo me ci sta perfetto, la cintura, chiamiamola così, come qua, che mi bulleggio del mio outfit, mi piace, poi, secondo outfit che è quello che lo sfida, secondo outfit, allora, questa camicia, ti ricordi, no, io non mi ricordo, sono pagata 2 euro 50 centesimi, però mi piace un sacco, ecco il colore proprio autunnale di vino, tipo color vino, rosso e blu, e vino rosso, un rosso mattone, poi ci ho abbinato i pantaloni da 2 euro che ho usato tantissimo, perché mi stanno bene, sono confi, forse si sono, tutti mi dicono che sono dimagrita e mi vanno giù i pantaloni, non so se si sono allargati i pantaloni o cosa, e poi volevo proporti quelle scarpe lì, che sono quelle che uso sempre, perché sono quelle che si appinano con qualsiasi cosa, e le ho prese in un negozio di scarpe, non hanno nessuna marca, sono tipo Converse, tutte nere, però mi sembrava troppo banale proporti un paio di scarpe che uso sempre, le altre non ti so dire dove le ho comprate e quando, e quanto le ho pagate, però ho sempre poco, e le ho da una vita, e non sono di una marca famosa, ecco, particolare, invece quelle che dopo ho detto, ah no aspetta, so quale proporti nell'outfit, se ti ricordi qualche mercato fa, ho acquistato un paio di scarpe superga, tutte nere uguali a quelle che ti ho mostrato prima, però sono leggermente più alte, quindi qua quando calpesti i sassi non si sentono, invece con quelle altre che sono bassissime, che però mi trovo da Dio a guidare, perché sono andato bene i pedali, invece con queste non riesco tanto a guidare, comunque ci sta, solo che ti devo, eh vedi, che mi pulisco, perché sono pieni di peli di gatto, perché Sam, quelle lì sono le sue scarpe preferite, si è strusciata tutta, me le ho tutte riempite di peli, e infatti poi mi sono ritrovata in fase di editing adesso, insomma, mi sono accorta che la felpa che adesso andrò a indossare era piena di peli, e non era sporca, però vabbè dai, passa, me l'ha andata così, è passata, vedi lì ho dei peli di gatto, vabbè, non importa, facciamo fine di niente, e era appena tirata fuori dalla lavatrice, quindi era pulita, facendo, ma come? E dopo, dopo che ho fatto il video, sto, ma porca miseria i peli del gatto, vabbè, pazzesca, fanno i gattari, sappiamo che purtroppo è così, è una gatta di tre colori, quindi qualsiasi indumento indossi, si vedrà, si vedranno i peli, perché se ha una maglietta bianca si vedranno i peli rossi e quelli neri, ma vabbè dai, fa niente. Allora, questa felpa, io mi ricordo benissimo, l'ho acquistata a 50 centesimi, era Jack Jones, è Jack Jones, perché ce l'ho ancora, non è pesantissima, però sotto camicia e una t-shirt, quindi perfetto, io mi vesto a cipolla, e mi piace perché sono, tra virgolette, total black, però ho un punto colorato, che è la camicia, e quindi mi piaceva l'idea che si vedesse appunto questa camicia sotto, quindi che uscisse, che uscisse da, questa S similante, che uscisse da sopra, quindi io sono andata a chiudere il bottoncino, ecco, bella chiusa così, che si vedesse bene il colletto, che c'è anche il cappuccio, e che si vedesse anche sotto, un po' di camicia colorata, bella, mi piace, soddisfatta del mio outfit, ho anche il cappuccio volendo, quindi se c'è la nebbia, mi proteggo un attimo i capelli, e ci sta, e poi, bello, semplice, vediamo con le scarpe, mi metto così, faccio prima così, perché se no, comunque immagino, ecco, ha peli dappertutto, molto bene, anche a te, si dai, ci stanno, quelle scarpe lì, sono semplici, total black, infatti ho indossato le scarpe, così vedi, eccoci qua, stanno così, semplicissimo come outfit, però è sempre comunque elegante, estetic, dal mio punto di vista, però bella, quella camicia, ha un colore troppo ottunnale, bellissimo, allora adesso ho detto, ma perché non proviamo a indossare il cappuccio, dato che sono total black, anche se ho la camicia, un po' che se non lo avete, però, secondo me ci può stare, perché sia il cappuccio che la camicia hanno colori ottunnali, e non sto a mischiare troppi colori, era come il vestito di prima, bello, molto estetic, guarda, che bella è, con niente ho fatto un altro vestito vecchissimo, secondo me, bello, che bello che si veda anche la camicia, ci sta anche come abbinamento, perché sono colori molto ottunnali, colore delle foglie, colore del vino, dal mio punto di vista, e si mette la mano in tasca e via, se vedevi nei pantaloni un riconfiamento sulle tasche, che è che io metto i fazzoletti da naso, i fazzoletti con cui mi soffio il naso sulle tasche, poi sembra che ho delle cose strane sulle tasche, le sono a gambe, invece sono i fazzoletti che riconfiano, vabbè, comunque, adesso andiamo al quesito della settimana, sei pronto, sei pronta creatura per il quesito della settimana, ho cercato di non fare questo video troppo lungo, perché mi servi sveglia e devi commentare, ecco, perché mi sarà il tuo consiglio, il quesito della settimana, allora, ho questa camicia, se ti ricordi che ho pagato 50 centesimi ed era la mia preferita, la duravo, e l'avevo lavata a mano, tutto ok, poi qualcuno me l'ha fatta sparire, me l'ha voluta lavorare in lavatrice rovinando, me l'ha chissà chi è stato, e non so se vedi, intanto si è incriccita, tipo, ma poi il colletto e le maniche, soprattutto, si sono tinte proprio di blu, nello sfondo, era un beige sul bianco, crema, così, vedi, adesso cerco di farti vedere con la luce il meglio possibile la differenza che il liembo più blu e il liembo più grigio, in realtà prima era un colore unico sui toni del beige, ecco, bianco, così, e quindi adesso ti faccio vedere le mie idee per salvarla, oppure se no mi dici no, ecco, te buttala, oppure la modifichiamo, allora intanto non far caso che non l'ho stirata, perché tanto se devo buttarla non la sto a stirare, vedi qua, aspetta che cambia la luce, ecco, lì è un po' più blu e lì un po', non so se riesci a notare la differenza, vedi, la vedo solo io, spero di non essere impazzita, ma secondo me la vedi anche tu, allora, la mia idea è questa, potrei indossarla sotto un maglione, che tra l'altro ho comprato il maglione rosso, proprio per fare l'abbinamento con questa camicia, io deluso, veramente, sono tornata a casa, mi sono trovata questa che l'avevo la mano apposta per non rovinarla, ma sai, non ti posso dire d'altro, comunque, vabbè, se stava da dio, secondo me, adesso mi metto il maglione, io riesco a mettermi tra l'altro i vestiti con gli occhiali, ma vabbè, anche prima ho messo la felpa nera con gli occhiali, vado, aspetta, chiudo i bottoni così lo vedi bene, eccoci qua, allora l'idea era quella di indossarla con un maglione che così usciva solo il colletto, che se anche era rovinato comunque, nessuno poteva vedere il resto della camicia, l'importante è ecco non far uscire le maniche, quindi si tiene tutto coperto così e via e nessuno vede niente, si vede solo il colletto, si potrebbe tagliarlo e tenere solo il colletto volendo, perché ho visto che sui Sheen vendono i colletti così, non lo so, piango, piango, perché me la rovin... è la mia povera camicia, quindi non so cosa fare, anche se l'ho pagata solo 50 centesimi, ma sai quanto mi piaceva e ero tutta contenta di averla, vedi, volendo potrei, però vedi, c'è una differenza, però non lo so, adesso non far caso che è aperta, ecco, diamo un attimo così, sì sotto una maglia di una pente, perché mi vesto a cipolla, però la vedi la differenza che lì qua è sul blu e là è un po' più sul grigio, quindi non è che la posso, non la posso indossare senza coprirla, però si vede tanto la differenza, se no io potrei nasconderla infilandomela dentro i pantaloni, così, e a posto, nessuno vede, non se non sa, cioè, non lo so, creatura, aiutami tu, allora, ti riassumo il quesito della settimana, allora l'idea appunto è tenerla, indossarla solo con un maglione che copra tutto, tranne che si veda almeno la camicia, un po' il colletto, ecco, che anche se è la parte rovinata, che è tutta rovinata, però è andata a chiazze, non so, oppure tagliare solo la parte del colletto, così non c'è pericolo che, perché se me la devo mettere col maglione, devo fare in modo che se ho caldo, cioè non me lo devo togliere, capito, se me la metto col maglione non devo togliere assolutamente il maglione, che può essere quel maglione lì o altri maglioni che ho, però appunto devo fare in modo di non toglierla, di non toglierla mai perché non si deve vedere questa cosa, e poi, oppure, mi dici, no, è troppo rovinata, buttala, hai pagata 50 centesimi, purtroppo l'hai messa poco perché poi è venuto caldo e quando l'ho comprata poi c'era il cambio di stagione, c'era estate e non l'ho più potuta indossare quindi me la sono anche goduta poco e anche lì c'ero girosico per quello, però porta pazienza e cate, buttala perché è inutile tenere un capo del genere così rovinato, oppure ho visto su Shina appunto che vendono questi colletti che mettono sotto agli abiti, sotto i maglioni, sotto alle maglie e fanno finta appunto di avere una camicia, invece c'è solo il colletto, che è un po' l'effetto, diciamo, dell'utilità di bellezza della cintura, ecco, avrei anche molto meno da stirare poi, però il bello delle camicie è che a me piace vestirmi a cipolla, quindi ho lo strato di camicia che mi fa da manica lunga, da maglietta manica lunga, capito, quindi dovrei smettere sotto al maglione una maglia comunque, maniche lunghe sotto e poi sopra il colletto, non lo so, non lo so perché prima di trovare la fantastica è costosissima, due euro, camicia bianca, prima di trovarla ero un po' sconfortato, forse non la troverò, allora mi stavo un attimo informando perché ho visto che tante ragazze usano questo escamotage e mettono questi colletti bianchi, che non sono solo il colletto, sono fatti così proprio, così e col colletto, però allo stesso tempo ho pensato, ma come fare resta su, non è che magari si muovono, non lo so, girano, non lo so, restano comunque fermi, sono comodi, non lo so, creatura, fammelo sapere in un commento, si può salvare tagliandola, modificandola, si può modificare, tenere così, si può salvare e mettere magari coperta da un maglione e non toglierlo, anche se stai volendo di caldo e poi, oppure la buttiamo, questa non si può né regalare né rivendere, a meno che non la taglio e poi dopo in un secondo momento rivenderò il colletto, non lo so, aspetto il tuo consiglio davvero prezioso per me, spero che tu riesca a mettermi il like e il commentino sia della sfida tra outfit che del quesito della settimana, grazie per essere rimasta con me e in mia compagnia anche questa sera, come sempre ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura!